Ciao biotruccose e biotruccosi, benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò dell'indigo, l'herbe di Janus. Nel tempo l'herbe di Janus ha cambiato packaging e anche qualità del prodotto che è decisamente migliorata. Questo che ho io è del packaging precedente a quello nuovo. Infatti quello nuovo si presenta molto simile a questo. Tant'è vero che l'herbe di Janus ha deciso di fare delle scatoline all'interno delle quali sono contenute le polveri, poi all'interno di packaging in plastica trasparente. Mi piace molto la scelta del packaging in cartoncino. Questo è quello della Lausonia, l'enerosso freddo, sempre della stessa marca, l'herbe di Janus. L'indigo si presenta allo stesso modo, però c'è scritto indigo, l'herbe di Janus, logicamente. Poi c'è un altro disegno davanti. Per quello che riguarda il packaging precedente, direi la verità, non mi dispiacevo affatto. Anzi, lo trovavo piuttosto comodo. L'indigo dell'herbe di Janus ha cambiato anche qualità nel tempo ed è migliorato veramente tantissimo. Ho notato che la polvere è estremamente sottile, molto fine. Devo dire probabilmente la più sottile dell'indigo che ho provato finora. Non contiene impurità ed è freschissima. Si presenta di una colorazione verde molto intensa. Vi faccio una comparazione tra l'indigo l'herbe di Janus e l'indigo di un'altra marca, di cui non voglio fare il nome, che è di pessima qualità. Si presenta infatti quest'ultimo di una colorazione verde spento e contiene molte purità all'interno, tra cui pezzetti di foglie non perfettamente macinati. Quindi, a questo punto, quello che succede quando si applica questo indigo è che difficilmente poi verrà risciacquato via. Invece, per quello che riguarda l'indigo l'herbe di Janus, ho notato che non macchia la testa, come succede con molti altri nè, la lascia molto pulita dopo il risciacquo. Io sono solita fare un co-wash dopo il risciacquo dell'indigo, perché in questa maniera sono sicura al 100% di aver rimosso ogni residuo di polvere della cute, che se rimane sulla cute potrebbe irritarla nei giorni successivi all'applicazione dell'indigo. La profumazione è quella tipica dell'indigo, che a me non fa proprio impazzire, però va sopportata per quel tempi di posa che vanno rispettati dall'indigo. Per quello che riguarda i miei capelli, io lo tengo in posa circa due ore. Ma si può tenere in posa anche di meno, anche per un'ora, se i vostri capelli hanno una porosità alta. Vi lascio nell'info box un video per misurare la porosità dei vostri capelli se ancora non lo conoscete, così da capire come comportarvi con l'erbe tintore e con i trattamenti e le cure per capelli in generale. Lo preparo semplicemente aggiungendo dell'acqua calda di 40-45 gradi. Mi avvalgo di un termometro per alimenti, proprio per misurare la temperatura del liquido in questo caso. Aggiungo anche mezzo cucchiaino di sale e un pizzico di bicarbonato per favorire la basicità del prodotto. In questa maniera l'indigo reagirà molto più facilmente, dato che ha bisogno di un ambiente basico per poter attecchire sul capello. Consiglio sempre un'applicazione di lausonia o comunque un mix con la lausonia dell'indigo perché possa attecchire in maniera permanente sui capelli. Diversamente al prossimo shampoo scaricherà immediatamente perché l'indigo si lega alla lausonia, cioè l'enne rosso, quando lo si applica sui capelli. Diversamente non riesce a legarsi direttamente al capello. Nell'info box ti lascio il link per poterlo acquistare e ha un codice sconto. Riguardo il potere tintorio di questo prodotto è veramente molto alto. Lo si nota nel momento in cui lo si prepara, tant'è vero che immediatamente comincia a rilasciare colorazione blu. I guanti che utilizzo per applicare l'indigo diventano subito blu quando appunto lo applico, quindi soddisfatta del suo potere tintorio. Un po' meno del prezzo che non è dei più accessibili. Ci sono indigo sul mercato molto più economici ma con potere tintorio inferiore e con una polvere molto ricca di impurità, tra cui sabbia. Cose che rendono i capelli molto stopposi, molto ispidi, crespi. A questo punto tanto vale comprare un indigo di qualità, spendere qualcosina in più, però ritrovarsi dei capelli decisamente migliori. Per saperne in più riguardo le erbe tintorie e come utilizzarle e vari tutorial, ti lascio nell'info box la playlist dedicata proprio alle erbe tintorie. Grazie per aver guardato questo video, ci vediamo alla prossima su Angela Biotrucco. E se non sei ancora iscritto o iscritta al canale, fallo subito e attiva la campanella da smartphone per ricevere notifiche sui prossimi nuovi video che emetterò. Ciao! Ciao!